Siete mai stati attratti dall'idea che esista una forza nascosta capace di trasformare ogni aspetto della vostra vita, dalla salute al successo, dalle relazioni alla pace interiore? Quella forza è già dentro di voi, ma spesso non sappiamo come accedervi. Il Theta Ealing è la chiave per sbloccare quel potere latente che risiede nel profondo della nostra anima, permettendoci di entrare in sintonia con l'energia più pura dell'universo. È come entrare in una nuova dimensione, dove le limitazioni si dissolvono e si apre lo spazio per una trasformazione profonda e duratura. Il Theta Ealing non è solo una pratica, ma un'esperienza di risveglio spirituale che vi permette di connettere alla parte più alta di voi stessi. Quando ci si immerge in questo straordinario stato di coscienza, si entra in contatto con le energie curative universali, capaci di cambiare radicalmente il nostro modo di pensare, sentire e vivere. In questo spazio sacro, potete riscrivere la vostra storia, lasciando andare tutto ciò che vi trattiene e abbracciando il vostro vero potenziale. Non si tratta semplicemente di migliorare qualche aspetto della vita, ma di una rivoluzione interiore che tocca ogni fibra del vostro essere, portandovi verso la guarigione totale e la realizzazione spirituale. Pensate a quanto sarebbe potente vivere ogni giorno con la consapevolezza che l'universo lavora con voi, non contro di voi. Il Theta Eling vi insegna a riconoscere questa connessione divina, ad allineare il vostro subconscio con i vostri desideri più profondi e a manifestare l'abbondanza, l'amore e la guarigione che meritate. È come se, per la prima volta, le barriere invisibili che vi hanno trattenuto si dissolvesero, permettendovi di accedere a una realtà più grande, più luminosa e piena di possibilità infinite. Non è una coincidenza che voi siate qui, ora, a esplorare il Theta Eling. C'è una ragione per cui siete attratti da questa pratica, un richiamo interiore che vi spinge a esplorare nuove vie per guarire e manifestare. E questo è il momento perfetto per iniziare il vostro viaggio di trasformazione. Rimanete con noi su Whispers of Wisdom per scoprire insieme come il Theta Eling può aprire le porte verso una realtà che avete sempre sognato, ma che non avete ancora avuto il coraggio o gli strumenti per realizzare. Prima di immergerci completamente in questo affascinante mondo, vi invito a iscrivervi al nostro canale Whispers of Wisdom. Iscrivetevi subito, attivate la campanellina per non perdere nessun video e lasciate un like per supportarci nel nostro cammino condiviso verso la consapevolezza e l'illuminazione. Questo piccolo gesto aiuta noi a continuare a portare contenuti di valore a tutti voi, ma soprattutto contribuisce a costruire una comunità di anime consapevoli che, come voi, sono pronte a evolversi e crescere. La frequenza Theta, una porta verso l'infinito. Il Theta Eling si fonda su uno degli stati più potenti che la mente umana possa raggiungere, la frequenza Theta. Questa frequenza è un vero e proprio portale verso l'infinito, un varco che ci permette di accedere a profondità interiori e universali altrimenti inaccessibili nella nostra routine quotidiana. Quando ci sintonizziamo su questa vibrazione, ci troviamo sospesi tra la veglia e il sonno, in uno stato di profondo rilassamento, ma con una straordinaria consapevolezza interiore. È proprio in questo spazio che possiamo sperimentare una connessione diretta con la nostra parte più autentica e con l'energia cosmica che ci circonda. Immaginate di avere il potere di riconnettervi a quella fonte primordiale che muove tutto l'universo, come se ogni ostacolo, dubbio o paura si dissolvesse, lasciando spazio a un'immensa chiarezza. Quando entriamo in questo stato, non stiamo semplicemente riposando la mente, ma accediamo a un livello di coscienza profondo e creativo, dove il subconscio si apre e le limitazioni che ci trattengono iniziano a sgretolarsi. Questo è il terreno fertile in cui possono avvenire le vere trasformazioni. In Theta, possiamo osservare e riscrivere le nostre credenze limitanti, quelle convinzioni profonde che da anni dirigono le nostre azioni, spesso senza che ne siamo consapevoli. Ogni pensiero negativo, ogni trauma, ogni blocco energetico può essere individuato e rilasciato, proprio perché la frequenza Theta agisce come un ponte tra il conscio e l'inconscio, unendo i due mondi in un flusso armonioso. Essere in uno stato Theta significa abbandonare le resistenze della mente razionale per aprirci a infinite possibilità. È qui che avvengono le vere guarigioni, quando il corpo e la mente si allineano perfettamente con l'energia universale. In questo spazio sacro, possiamo non solo guarire noi stessi, ma anche ricevere intuizioni profonde, messaggi che arrivano direttamente dal campo energetico che ci circonda. Ci rendiamo conto che siamo esseri energetici che interagiscono costantemente con un universo fatto di vibrazioni. Ogni pensiero, ogni emozione, ogni intenzione ha un impatto reale sulla nostra vita e su ciò che attraiamo nel nostro percorso. La frequenza Theta ci permette di espandere la nostra coscienza oltre i confini del tempo e dello spazio. Quando accediamo a questa dimensione, siamo in grado di vedere la vita con occhi nuovi, di percepire le connessioni tra gli eventi, le persone e le energie che ci circondano. Siamo come antenne che ricevono continuamente segnali dall'universo, ma è solo in Theta che possiamo decodificare quei segnali in modo chiaro e potente. È qui che la vera magia accade, quella che ci porta a una guarigione non solo mentale, ma anche fisica e spirituale. Non si tratta solo di un processo intellettuale. Ogni cellula del nostro corpo risponde a queste vibrazioni, armonizzandosi con la frequenza della guarigione e dell'amore incondizionato. Accedendo a questo stato, ci permettiamo di entrare in un flusso di energia pura, in cui le vecchie ferite, i traumi e le convinzioni limitanti si dissolvono e viene creato lo spazio per nuove esperienze, nuove credenze e un nuovo modo di vivere. Sperimentiamo una riconnessione profonda con il nostro Sé superiore, con quella parte di noi che sa esattamente di cosa abbiamo bisogno per crescere ed evolvere. In Theta, possiamo ricevere risposte alle domande che ci portiamo dietro da una vita, soluzioni che non avremmo mai immaginato. E possiamo farlo senza sforzo, semplicemente lasciando che l'energia universale ci guidi. La frequenza Theta è come un canale diretto verso la nostra verità più profonda, quella verità che, al di là delle distrazioni quotidiane, ci ricorda chi siamo davvero e perché siamo qui. Quando ci immergiamo in questo stato, diventiamo consapevoli del nostro potenziale illimitato e ogni limitazione sembra solo un ricordo lontano. Questo è il potere di accedere alla frequenza Theta. Non è solo una pratica spirituale, ma un viaggio verso la nostra autentica essenza, un viaggio che ci permette di trasformare radicalmente la nostra vita in modo permanente e profondo. Riprogrammare il subconscio, il cuore della trasformazione. Quando si parla di guarigione profonda e cambiamento duraturo, il vero segreto risiede nel subconscio. È qui che il Theta Eling opera la sua magia più potente. Il nostro subconscio è come una grande biblioteca, piena di ricordi, convinzioni, esperienze e schemi accumulati nel corso della nostra vita. Questi schemi guidano silenziosamente le nostre azioni, le nostre emozioni e persino le nostre percezioni, spesso senza che ce ne rendiamo conto. Eppure, è proprio in questa parte profonda della mente che si nascondono le chiavi per trasformare ogni aspetto della nostra esistenza. Attraverso il Theta Eling abbiamo la straordinaria possibilità di accedere direttamente a questo livello della mente e riscrivere quei programmi che, per anni, hanno influenzato la nostra vita. Pensieri limitanti, convinzioni negative o traumi passati non sono permanenti, ma come software possono essere aggiornati o completamente sostituiti. Questo è il vero potere della riprogrammazione subconscia. Ci permette di creare una nuova realtà partendo dall'interno, trasformando le radici più profonde delle nostre credenze. Quando entriamo nello stato Theta, la mente subconscia diventa più aperta, più ricettiva. Le barriere che normalmente mantengono le credenze radicate si allentano, e possiamo intervenire su quei programmi come se fossimo ingegneri della nostra stessa mente. Immaginate per un attimo di poter prendere in mano la sceneggiatura della vostra vita e riscrivere le parti che non vi servono più. In questo spazio, non c'è lotta, non c'è resistenza. C'è solo un fluire naturale verso la guarigione, dove i vecchi schemi di paura, dubbio o insicurezza vengono delicatamente rilasciati e sostituiti da nuove credenze, più allineate con il nostro vero essere. Ogni credenza limitante che abbiamo immagazzinato, ogni esperienza che ci ha condizionato, può essere trasformata attraverso la pratica del Theta-Hailing. Ma non si tratta solo di cancellare vecchi schemi, è un processo di integrazione e guarigione profonda. Quando rilasciamo una vecchia convinzione, non stiamo semplicemente eliminando un blocco, ma stiamo facendo spazio a nuove possibilità, a nuove vibrazioni che possono influenzare la nostra realtà in modi straordinari. È come ripulire un giardino incolto. Rimuoviamo le erbacce, ma nel farlo, stiamo anche piantando semi che daranno vita a qualcosa di meraviglioso. E questa trasformazione non avviene solo a livello mentale. Quando cambiamo il modo in cui vediamo noi stessi e il mondo attraverso il subconscio, il nostro corpo, le nostre emozioni e persino il nostro spirito si allineano a questa nuova energia. Ogni cellula del nostro corpo risponde alle credenze che nutriamo, e quando quelle credenze sono di guarigione, amore, abbondanza e potere personale, la nostra intera realtà comincia a riflettere questi cambiamenti. Diventiamo magneti per esperienze che risuonano con queste nuove frequenze. Non si tratta solo di un cambiamento superficiale. Il Theta-Helling permette di agire alla radice delle nostre convinzioni, di portare luce dove c'è oscurità, di vedere chiaramente dove prima c'era confusione. E nel fare questo, scopriamo la nostra vera potenza. Scopriamo che non siamo vittime di ciò che ci è accaduto in passato, ma creatori attivi della nostra realtà presente. Ogni giorno, con ogni pensiero, con ogni emozione, stiamo scrivendo il nostro destino. E con il Theta-Helling, possiamo farlo con una consapevolezza nuova, con una padronanza che ci porta a manifestare la vita che desideriamo davvero vivere. La bellezza di questa pratica è che, una volta compreso il processo, diventa parte della nostra vita quotidiana. Non è necessario aspettare che si verifichino grandi eventi o cambiamenti esteriori per sentirci trasformati. Ogni volta che accediamo al subconscio, ogni volta che ci immergiamo nello stato Theta, stiamo operando un cambiamento profondo. Stiamo guarendo parti di noi stessi che nemmeno sapevamo esistessero. E con ogni guarigione, ci avviciniamo sempre di più alla nostra verità più autentica, a quella parte di noi che è pura, luminosa e illimitata. Riprogrammare il subconscio significa riscoprire il potere che è sempre stato dentro di noi. Un potere che non è mai stato perso, ma che era semplicemente sepolto sotto strati di convinzioni limitanti. Il Theta Eling ci dà gli strumenti per liberare questo potere e per utilizzarlo in ogni aspetto della nostra vita, dal miglioramento della salute, alla manifestazione dei nostri sogni, alla creazione di relazioni più autentiche e appaganti. È un viaggio di risveglio e di potenziamento, dove ogni passo ci porta più vicini alla piena realizzazione del nostro potenziale infinito. La guarigione energetica, un viaggio oltre il corpo fisico. Quando parliamo di guarigione, spesso ci limitiamo a pensare al corpo fisico, alle cure mediche o ai rimedi per alleviare i sintomi. Ma la guarigione energetica che il Theta Eling offre va ben oltre la dimensione materiale. Questa pratica ci invita a guardare oltre la superficie e a riconoscere che tutto nell'universo, incluso il nostro corpo, è energia. Ogni pensiero, emozione e esperienza che attraversiamo lascia una traccia nel nostro campo energetico e quando queste tracce si accumulano senza essere elaborate o rilasciate, possono manifestarsi come blocchi, malesseri o malattie. Il Theta Eling ci insegna che il nostro corpo è solo uno degli strati dell'essere e che la vera guarigione avviene quando riusciamo a bilanciare e purificare l'energia che scorre attraverso di noi. Non si tratta solo di guarire sintomi o affrontare problemi fisici, si tratta di ristabilire un flusso armonioso di energia tra corpo, mente e spirito. La guarigione energetica è un processo profondo che coinvolge ogni livello del nostro essere, perché tutto ciò che sperimentiamo, a partire dalle nostre emozioni e pensieri più intimi, influenza la nostra realtà fisica. Accedendo allo stato Theta, diventiamo consapevoli delle disarmonie energetiche che abbiamo accumulato nel tempo. Emozioni represse, traumi non risolti, credenze limitanti e schemi mentali negativi creano dei veri e propri blocchi energetici, impedendo all'energia di fluire liberamente attraverso di noi. Il risultato? Sentiamo un peso, un'energia stagnante che ci limita, che si riflette non solo nel nostro stato mentale ma anche nel corpo, causando tensioni, dolori o malattie. Tuttavia, quando ci permettiamo di entrare in questo stato di profonda connessione attraverso il Theta-Heling, iniziamo a dissolvere questi blocchi energetici, permettendo alla nostra energia vitale di tornare a fluire liberamente. Questo processo di guarigione energetica va ben oltre il semplice alleviamento dei sintomi. Stiamo parlando di una trasformazione radicale, dove il corpo risponde a una nuova vibrazione di benessere, amore e armonia. Quando rilasciamo le energie stagnanti e ripuliamo il nostro campo energetico, non solo ci sentiamo più leggeri e vitali, ma iniziamo anche a vibrare a una frequenza più alta, attirando nella nostra vita nuove opportunità, relazioni più sane e una connessione più profonda con l'universo. Il Theta-Heling agisce come un ponte tra il nostro corpo fisico e i livelli più sottili della nostra esistenza, permettendoci di esplorare le cause profonde dei nostri malesseri. È come se ci fosse una sinergia tra i vari livelli del nostro essere, dove ogni guarigione energetica porta con sé una guarigione fisica, mentale ed emotiva. Quando l'energia si riequilibra, il corpo risponde spontaneamente, le tensioni si dissolvono, i dolori svaniscono e il nostro intero essere ritorna a uno stato di equilibrio naturale. Questa guarigione non è solo temporanea, ma permanente, perché non stiamo agendo solo sui sintomi, ma sulle cause profonde. Immaginate un fiume bloccato da detriti. La sua acqua non scorre più liberamente, si accumula, si sporca. Rimuovere quei detriti è come liberare il flusso energetico dentro di noi. Il Theta-Heling ci aiuta a rimuovere quei blocchi, quei traumi, quelle emozioni non elaborate, riportando l'equilibrio naturale e permettendo alla nostra energia vitale di scorrere nuovamente, come un fiume limpido e inarrestabile. E questo processo non avviene solo a livello individuale. Quando riequilibriamo la nostra energia, influenziamo anche l'energia delle persone intorno a noi. Diventiamo centri di armonia e benessere, irradiando una nuova vibrazione che attira esperienze positive, relazioni autentiche e una connessione più profonda con tutto ciò che ci circonda. La guarigione energetica ci permette di allinearci con l'energia universale, con quella fonte infinita di amore e guarigione che è sempre a nostra disposizione e che spesso ignoriamo perché siamo troppo concentrati sulle dinamiche del mondo fisico. Il potere della guarigione energetica è che ci rende consapevoli del fatto che siamo molto più del nostro corpo. Siamo esseri energetici in un universo fatto di vibrazioni e quando impariamo a gestire la nostra energia, diventiamo i creatori consapevoli della nostra realtà. Questo è il dono del Theta-Heling. Ci offre la possibilità di prendere il controllo della nostra energia, di rilasciare tutto ciò che ci appesantisce e di vivere una vita in equilibrio con l'universo. È un percorso di profonda trasformazione che non solo ci guarisce, ma ci apre a una nuova visione della vita, dove ogni aspetto del nostro essere è in armonia con il tutto. Riprogrammare le credenze limitanti, il potere del Theta-Heling. Le credenze limitanti sono come catene invisibili che trattengono il nostro potenziale, bloccando il nostro cammino verso la realizzazione e la felicità. Molto spesso, queste credenze non sono nemmeno consapevoli. Sono schemi mentali radicati profondamente nel nostro subconscio, formatosi attraverso le esperienze della nostra infanzia, le influenze della società e, talvolta, persino tramandati di generazione in generazione. Ma ciò che il Theta-Heling ci insegna è che queste credenze possono essere riscritte, e possiamo farlo attingendo a quella connessione profonda con l'energia universale. Immagina il potere di rilasciare ogni limitazione che hai mai avuto, di trasformare ogni pensiero che ti ha trattenuto e di aprire la strada a una vita piena di possibilità illimitate. Questa è la promessa del Theta-Heling. Quando parliamo di riprogrammazione delle credenze limitanti, stiamo parlando di una vera e propria rivoluzione interiore. Il Theta-Heling ci permette di accedere a quei livelli profondi della nostra mente dove queste credenze sono custodite e, da lì, possiamo sostituirle con nuove convinzioni, potenzianti e positive. È un processo che avviene nello stato Theta, quello stato di coscienza dove la nostra mente è più ricettiva, dove i confini tra il subconscio e il conscio si dissolvono e possiamo operare veri e propri cambiamenti a livello cellulare. È come entrare nel cuore del nostro sistema operativo, dove possiamo rimuovere vecchi programmi che non ci servono più e installare nuovi modelli di pensiero che ci sostengono nel nostro cammino. Le credenze limitanti sono spesso così radicate che tendiamo a pensarle come verità inconfutabili. Non sono abbastanza bravo, non merito amore, non sarò mai in grado di raggiungere i miei sogni. Queste sono solo alcune delle frasi che possiamo ripetere a noi stessi, senza renderci conto di quanto potere abbiano nel plasmare la nostra realtà. Ma ciò che il Theta-Heling ci svela è che queste credenze non sono verità assolute, sono semplicemente interpretazioni che abbiamo fatto delle nostre esperienze passate. E la bellezza di questo processo è che, una volta che siamo consapevoli di queste credenze, possiamo cambiarle. Il Theta-Heling ci permette di identificare non solo le credenze superficiali, ma anche quelle più profonde, radicate nel subconscio. Spesso queste credenze derivano da momenti di dolore o traumi che non abbiamo ancora elaborato. Attraverso il processo di guarigione in stato Theta, siamo in grado di affrontare questi traumi senza paura, di vedere chiaramente l'origine delle nostre limitazioni e di rilasciarle. È come se stessimo ripulendo il nostro campo energetico da ogni traccia di negatività, permettendo alla nostra vera essenza di brillare senza ostacoli. Ma non è solo un processo mentale o emotivo. Quando riprogrammiamo le nostre credenze limitanti, influenziamo anche il nostro corpo fisico. Il nostro cervello, le nostre cellule, tutto il nostro essere risponde a questi cambiamenti. È stato dimostrato che i pensieri influenzano il nostro stato di salute, la nostra energia e persino il nostro DNA. Con il Theta Eling stiamo letteralmente riscrivendo la nostra biologia, creando una nuova realtà non solo a livello spirituale, ma anche fisico. La scienza ha iniziato a riconoscere l'importanza della connessione mente-corpo e il Theta Eling è uno strumento che ci permette di sfruttare questa connessione al massimo. Quando cominciamo a riprogrammare le nostre credenze limitanti, ciò che accade è che la nostra realtà esterna inizia a cambiare. Le opportunità che prima sembravano lontane o irraggiungibili ora diventano accessibili. Le relazioni che ci trattenevano o ci facevano soffrire si trasformano o si dissolvono, lasciando spazio a nuove connessioni, più allineate con la nostra vera essenza. Anche il modo in cui vediamo noi stessi cambia radicalmente. Ci sentiamo più sicuri, più consapevoli del nostro valore e della nostra capacità di manifestare ciò che desideriamo. La riprogrammazione delle credenze limitanti attraverso il Theta Eling non è solo un processo di guarigione, è una rinascita. Ci permette di vedere il mondo con occhi nuovi, liberi dalle catene del passato e pronti ad abbracciare un futuro pieno di possibilità. Quando lasciamo andare le convinzioni che ci hanno trattenuto per anni, ci apriamo a un nuovo modo di vivere, uno in cui siamo davvero liberi di essere chi siamo destinati a essere. Questo è il vero potere del Theta Eling, non solo ci guarisce, ma ci trasforma, portandoci a vivere una vita piena di significato, gioia e abbondanza. La connessione divina, attrarre guarigione e abbondanza con il Theta Eling. Immagina di essere costantemente connesso a un'energia universale infinita, un'energia che non solo alimenta l'intero universo, ma che è anche la fonte di tutta la guarigione, l'abbondanza e la creazione. Il Theta Eling ti invita a riscoprire questa connessione, a ricordare che tu sei parte integrante di questo flusso divino. Attraverso questo metodo, non solo entri in sintonia con il potere superiore, ma diventi anche il canale attraverso cui questo potere si manifesta nella tua vita quotidiana. Quando parliamo di attrarre guarigione e abbondanza attraverso il Theta Eling, stiamo parlando di sbloccare il potenziale illimitato che risiede in ognuno di noi. Non si tratta solo di desiderare qualcosa, ma di entrare in uno stato di profonda connessione spirituale in cui puoi cocreare la realtà che vuoi. In questo stato, ogni barriera tra te e ciò che aspiri a ottenere inizia a dissolversi. Ti rendi conto che l'abbondanza e la guarigione non sono qualcosa che devi cercare all'esterno, ma sono già dentro di te, pronte ad essere attivate quando ti allinei con l'energia divina. Il Theta Eling ti insegna che per attrarre ciò che vuoi, devi prima riconoscere il tuo merito. Spesso le persone vivono la vita sentendosi indegne di amore, prosperità o salute, e queste credenze creano blocchi energetici che impediscono alla guarigione e all'abbondanza di fluire. Il lavoro interiore del Theta Eling ti permette di eliminare queste credenze, guarendo vecchie ferite, traumi e cicatrici emozionali che ti impediscono di vedere il tuo vero valore. Una volta guarite queste parti di te, l'universo risponde, riflettendo nella tua realtà esterna l'amore e l'abbondanza che finalmente riconosci di meritare. In questo stato di connessione divina, la guarigione non è solo fisica, ma anche spirituale, mentale ed emotiva. Ogni livello del tuo essere viene influenzato da questa energia pura, elevandoti a una frequenza superiore in cui la malattia, il dolore e la scarsità non possono più esistere. Quando il tuo corpo è in armonia con l'energia universale, il tuo sistema immunitario si rafforza, la tua mente si calma e il tuo spirito fiorisce. L'abbondanza, in tutte le sue forme, inizia a fluire nella tua vita con naturalezza. Puoi notare come le tue relazioni migliorano, le opportunità si presentano e persino la tua salute inizia a riflettere questo nuovo equilibrio interiore. Attrarre guarigione e abbondanza attraverso il Theta Eling non significa solo chiedere e sperare che accada. Si tratta di riconoscere che tu sei il co-creatore del tuo destino e che attraverso questa tecnica puoi sintonizzarti con il campo infinito di possibilità dell'universo. Non stai semplicemente cercando di manifestare qualcosa. Stai operando un vero e proprio cambiamento energetico e vibrazionale dentro di te, che ti allinea con le frequenze più alte della guarigione e dell'abbondanza. È come se ogni atomo del tuo essere fosse sintonizzato su una nuova frequenza, una frequenza di amore, pace e infinita prosperità. E man mano che questa nuova energia diventa parte di te, essa inizia a riflettersi in ogni aspetto della tua vita. Dalle piccole coincidenze che sembrano quasi magiche, ai grandi cambiamenti che ti portano sempre più vicino ai tuoi sogni. Non c'è separazione tra te e l'universo, e il Theta Eling ti permette di riconnetterti con questa verità. Quando abbracci questa connessione, ti rendi conto che sei già parte di quell'energia infinita che desideri attrarre. Ogni volta che entri in uno stato Theta, ogni volta che lavori su te stesso attraverso questa potente tecnica, stai richiamando a te un flusso ininterrotto di guarigione e abbondanza. È una danza energetica tra te e l'universo, in cui tu non sei solo un partecipante passivo, ma un creatore attivo della tua realtà. Questa consapevolezza cambia tutto, poiché ti sposta da una mentalità di mancanza e scarsità a una di pura creazione. Non sei più alla mercè delle circostanze esterne, ma sei colui che le crea. Questa profonda connessione con l'energia divina non solo ti guarisce, ma ti dona la capacità di espandere la tua vita in modi che forse non avevi nemmeno immaginato. La guarigione e l'abbondanza che attrai grazie al Theta Eling vanno ben oltre l'aspetto materiale. Si tratta di trovare uno stato di completezza interiore, di risvegliare la tua essenza divina e di vivere in allineamento con la tua vera natura. E in questo stato, ogni cosa diventa possibile. La trasformazione che il Theta Eling porta nella tua vita non è semplicemente una serie di eventi isolati, ma un profondo risveglio interiore, una riconnessione al potere divino che hai sempre avuto dentro di te. Attraverso questa tecnica, hai l'opportunità di riscrivere la tua storia, guarire le ferite del passato e aprirti a un futuro di abbondanza, amore e realizzazione. Ogni volta che accedi allo stato Theta, ti stai avvicinando sempre di più alla tua essenza più pura, liberando tutto ciò che non ti serve più e abbracciando il potere di cocreare la tua vita in armonia con l'universo. Il viaggio con il Theta Eling ti ricorda costantemente che sei parte di un universo amorevole e abbondante, dove le possibilità sono infinite e dove la tua mente e il tuo cuore sono i ponti tra il visibile e l'invisibile. Più lavori su te stesso, più ti allinei con la frequenza della guarigione e della creazione. Ogni passo che fai in questo percorso ti avvicina sempre di più a una vita di benessere e abbondanza, non solo per te, ma per le persone intorno a te. Perché, quando guarisci te stesso, guarisci anche il mondo che ti circonda. Ricorda sempre che non sei mai solo in questo cammino. L'energia divina ti accompagna, ti guida e ti sostiene in ogni momento. Hai il potere di cambiare tutto, di trasformare ogni sfida in opportunità e ogni sogno in realtà. Con il Theta Eling stai riscoprendo la tua capacità innata di essere non solo un creatore della tua vita, ma anche un faro di luce e guarigione per il mondo intero. Questa è la forza straordinaria che dimora in te. Se vuoi continuare a esplorare e ad approfondire queste conoscenze, sei nel posto giusto. Su Whispers of Wisdom ci dedichiamo a condividere queste verità profonde e a supportarti nel tuo percorso di crescita spirituale. Iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perdere nessuno dei nostri video e se hai trovato valore in questo contenuto, lascia un like. Ci aiuta a crescere e a diffondere questa saggezza. Commenta e condividi con chiunque possa trarne beneficio, perché la luce che accendiamo in noi stessi ha il potere di illuminare anche gli altri.